iniziati stamattina il lavoro per il montaggio del palco palco per il rebi sound 2023 e tanti uomini impegnati ci hanno detto anche gli addetti ai lavori circa una ventina chiaramente che vuol dire montare prima e per un magari circa 45 giorni anziché poi per lo smontaggio quindi in qualche modo si crea anche quello che noi diciamo da tanto un indotto grazie anche agli eventi sportivi quindi in qualche modo cioè gli eventi musicali e sportivi quindi rebi sound e anche il produttore di diciamo di indotto perché poi ci sono questi venti persone circa poi ci saranno anche gli altri durante che alloggeranno qui vivranno qui e faranno tante cose belle e niente noi seguiremo un po l'evoluzione ormai ci siamo poi loro sono velocissimi maggior parte viene un po da tutta italia ma per quanto riguarda il montaggio zona bergamasca